Il prossimo gruppo è un gruppo elettroetno che nasce a potenza nell'estate del 2009. Il nome di questa formazione deriva dall'importante Orisha, semidivinità appartenente al culto Yoruba che è una mitologia sviluppatasi in Africa e trasmigrata poi con le deportazioni degli schiavi a Cuba. Orisha è invocato per curare le infezioni della pelle e per guarire e scongiurare tutte le malattie contagiose. Il nome deriva appunto dalla divinità cubana Babalu Aie che è identificata con San Lazzaro e caratterizzata dal colore viola e dal numero 17. I componenti quindi coraggiosamente hanno voluto usare come amuleto scaramantico ciò che comunemente invece viene temuto per quanto riguarda qualsiasi tipo di rappresentazione sia teatrale che in questo caso musicale e quindi invece di temere il viola e il 17 lo usano proprio come amuleto scaramantico. Il loro progetto ha un duplice scopo, fondere le esperienze di ciascuno dei sette componenti e creare un sound ricco di influenze musicali provenienti da diverse culture partendo da quelle suggestive del sud Italia per arrivare sino a quelle dell'Africa, dell'India e della Giamaica. I testi scritti interamente in lingua napotentina, Carino, una potentina, bellissimo, la posizione tra i dialetti campano e lucano Campano e lucano appunto, trattano tematiche sociali e antirazziali promuovendo e perseguendo quale finalità prioritaria il processo di integrazione tra il mondo occidentale e orientale. I componenti dei Babalu provengono dalle più eterogene esperienze artistiche ma sono tuttavia legati da un unico fattore comune, l'amore viscerale per le proprie radici del sud. E vediamo di presentarli allora i componenti dei Babalu, sono Gianluca Sanza a voce basso, Angelo Sirufo alle percussioni, Viviana Faticante è la voce, Antonello Ruggero alla batteria, Paola Calbi tamburi a cornice, Oreste Forestieri, Mandola, Flaudia e Zampogne e Luca De Laurentiis alla chitarra. Quindi lasciamo il palco ai Babalu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.